Allora, l'UISM Hunt, lo vedete, ma sicuramente lo conoscete anche perché Take Your Time è la canzone che avete ascoltato di più nelle ultime settimane e sarà a Radio 24 domenica dopo il giornale radio delle 8 a 140 caratteri. You're gonna be on Sunday morning with an Italian audience, Radio 24, Radio 24, Sam is waiting for you. È bellissimo, ma è anche molto bravo.